Per niente candida mezzogiorno, 27 novembre 2022 09, 26 la posta del cuore del Cormez, le lettere di sposina di primavera e primula di candida morvillo cara candida, di cattivo gusto mettere in lista nozze regali costosi se stai organizzando un matrimonio a basso costo? Io e il mio fidanzato abbiamo molti amici, uno di loro, ci ha messo a disposizione una bella villa con un giardino, che in primavera, quando ci sposeremo, sar pieno di fiori. Un altro amico fa il macellaio e si messo a disposizione per un barbecue a prezzo stracciato. Inoltre, noi abbiamo un orto e l'idea a fare una grigliata con verdure molto campagnola. Io stessa, quest'estate, ho preparato dei sottolii per gli antipasti. Ci sarà un cuoco, nostro amico, che prepara una pasta in casa, ci saranno amici che faranno musica per ballare. Insomma, i costi saranno davvero esigui e l'atmosfera informale. Esattamente il tipo di festa che volevamo, sia per questione di budget, sia per trispecchia il nostro stile. Abbiamo fatto, come USA, una lista di nozze, anche questa con oggetti originali, ma non per questo economici. Ci sono pezzi da circa 30 euro e ci sono pezzi diciamo di design decisamente cari. L'idea che vengano acquistati in gruppo, che gli ospiti mettano delle quote. Ma...